ecco guardiamo ancora quello che dice in questo altro commento al mio video di oggi il dottor cionci ecco dice ho sempre affermato che sebbene l'omologazione di munus e ministerium con ministero poteva anche essere accettabile sebbene vi sia la parola ufficio office of ufficio eccetera ciò che svela il dolo è l'inversione tra amt e dienest la pastor bonus tradotta nelle varie lingue dimostra indubitabilmente che munus si dice amt e ministerium si dice dienest quindi la vostra sindrome del vocabolario per buttarla in cacciara è un peccato di impugnazione della verità ciò che conta è l'uso ecclesiastico e canonico documentato il fatto che i traduttori abbiano cambiato di posto amt e dienest è la dimostrazione patente del fatto che i due termini non sono affatto sinonimi altrimenti avrebbero potuto lasciarli dove erano e tradurre le mie forze non sono adeguate per esercitare il munus amt e dichiaro di rinunciare al ministerium dienest e invece no li hanno scambiati perché il canone 332 impone la rinuncia al munus ecco allora diciamo subito al dottor cionci che un attimo solo ecco diciamo subito al dottor cionci che ecco qui lui racconta ulteriori falsità innanzitutto dice che io vorrei buttarla in cacciara questo è totalmente falso non ho nessuno interesse personale a buttarla in cacciara né lo voglio mai fare perché io questi argomenti ecco che sono di somma importanza sono sacerdote di cristo e devo essere sacerdote di cristo devo far valere la verità di cristo ecco quindi quello che dice il dottor cionci è offensivo nei miei confronti ed è radicalmente falso si vergogni dottor cionci io non ho nessun interesse e non ho nessuna voglia nessuna volontà di buttarla in cacciara e non l'ho mai buttata in cacciara in questo in questo su questo argomento sono questioni troppo alte queste per appunto buttarle in cacciara ecco poi la le falsità di cionci emergono quando afferma che il canone 332 impone la rinuncia al bonus il canone 332 impone la rinuncia al bonus ma il canone 332 non afferma che per rinunciare al bonus bisogna nominare il bonus se il papa rinuncia al papato rinuncia al bonus implicitamente quindi parlare di ministerium rinuncia al ministerium come ha fatto benedetto è chiaramente una rinuncia al bonus è una rinuncia al papato e quindi la declaratio di benedetto sedicesimo parlando di rinuncia al ministero ecco attua perfettamente il canone 332 comma 2 che ripeto non afferma ad validitatem la necessità dell'uso della parola munus per la rinuncia del papa questo non lo dico io lo dicono i canonisti grandi canonisti che ho che ho appunto di cui ho letto le opere e nei miei video su questo argomento che potete trovare nella playlist benedetto non è papa sul mio canale ecco ho messo diversi video nei quali ho fatto vedere a quelli che sono interessati ho fatto vedere a tutti e si possono vedere questi testi nei quali si afferma chiaramente dai grandi commentatori come il canone 332 deve essere interpretato correttamente e non come fa ecco il dottor cionci che peraltro non è un monista non ha nessuna nessuna nessun titolo nessuna competenza riconosciuta in questo ambito ma poi andiamo a vedere un altro punto ecco qui il dottor cionci afferma che la parla pastor bonus tradotta nelle varie lingue dimostra che dubitabilmente che munus si dice ante ministerium si dice diens la pastor bonus caro dottor cionci non si interessa precisamente di come si traduce am come si traduce munus e come si traduce ministerium la pastor bonus si interessa di ben altre cose la pastor bonus non dogmatizza in nessun modo l'uso di amde diens per tradurre munus e ministerium lei sta raccontando ulteriori falsità vere fiabe ma dove se le inventate queste stanotte eh peraltro poi la pastor bonus è uno dei tanti documenti che la chiesa ha scritto quindi che lei voglia dirci che la pastor bonus praticamente dogmatizza certi 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 termini in tedesco per tradurre termini latini è una colossale falsità caro signore lei lei può ingannare gli sproveduti ma non inganna chi conosce un po come funziona la teologia cattolica la chiesa ci ha indicato di sviluppare la teologia il diritto canonico ecco quindi tutto quello che lei dice qui è una colossale falsità ben presentata ben infiocchettata ma sono colossali falsità il canone 332 non impone quello che lei vorrebbe presentare cioè non impone e l'uso della parola munus per la validità della rinuncia io non ho nessuno interesse non ho nessuna intenzione non ho mai voluto buttarla in cacciara quindi lei quello che dice è totalmente falso quindi il fatto che mi dice di un peccato di aver peccato di impugnazione la verità è una colossale falsità perché io ribadisco la verità che la chiesa insegna e che i grandi canonisti a nome della chiesa presentano a differenza sua io presento quella la sana teologia che la chiesa insegna e ho presentato ho precisato quello che dico sulla base non di mie interpretazioni di qualche testo ma sulla base di quello che appunto dicono i grandi teologi a differenza sua e i grandi canonisti a differenza sua quindi caro dottor cionci come le ho detto la smetta chieda perdono al signore perché vede adesso già ci sono ringraziando dio anche altri canali che cominciano decisamente a smascherarla sono contento che ci siano altri canali come per esempio il canale codice runner che appunto presenta anche i testi della professoressa boni che ringrazio per il sostegno che mi ha dato personalmente quando l'ho sentita ecco quindi dottor cionci la smetta queste tecniche che lei utilizza alla fine vengono smascherate lei dice delle colossali falsità come ho detto le traduzioni le traduzioni che il vaticano la santa sede ha presentato dei testi di benedetto sedicesimo quando lui era ancora papa cioè le traduzioni della dichiarate la declaratio sono sono traduzioni del tutto valide in particolare io ho visto quella tedesca quella italiana paiono traduzioni che fanno passare essenzialmente il messaggio che benedetto ha presentato quindi quello che lei dice sono colossali falsità colossali falsità quelle traduzioni ripeto sono traduzioni approvate da benedetto come benedetto ha approvato tutte le altre traduzioni dei suoi testi che lui ha scritto e che venivano tradotti dal vaticano quando benedetto sedicesimo ha scritto altri testi come la spe salvi la caritas inveritate eccetera questi tesi sono stati tradotti dal vaticano la santa sede con traduzioni che sono sostanzialmente approvate dal papa dalla santa sede quindi sono traduzioni che hanno la loro precisione così come la traduzione della della declaratio quindi quello che lei sta dicendo è totalmente falso benedetto sedicesimo era ancora papa allora peraltro quindi queste traduzioni sono realizzate sotto la supervisione di benedetto sedicesimo e dei suoi più stretti collaboratori e appunto sono traduzioni del tutto lecite e che traducono per quello che io ho potuto vedere in particolare quella tedesca e quella italiana ma poi tutte le altre traducono in maniera precisa e fanno passare in maniera precisa il pensiero di benedetto sedicesimo il quale come sappiamo ha rinunciato al ministerium cioè essenzialmente ha rinunciato al munus cioè al papato e questo appunto è quello che è evidente evidente sia nella declaratio sia da tanti innanzitutto dalla declaratio ma poi anche si è confermata questa evidenza da tante altre cose ecco quindi le ripeto la smetta si converta smetta di opporsi alla verità perché ripeto adesso già stanno venendo fuori altre persone che cominciano a criticare fortemente i suoi errori e a poco a poco ripeto la verità verrà sempre più fuori e lei appunto dovrà dovrà confrontarsi sempre più chiaramente con la sua con il suo crollo con il crollo delle sue falsità prego per lei e le ricordo il signore non gradisce queste cose che lei sta diffondendo questi errori lei si sta opponendo alle alla competenza di tanti e pur essendo non competente su tante cose va a fare delle affermazioni che poi ovviamente si verificano come delle colossali falsità come questa storia che lei sta raccontando qui come se ormai fosse dogmatizzato nella chiesa che munus si deve tradurre con amt e ministerium con misterio con diest sono falsità colossali non so se le si è inventate stanotte ma lei se le sogna di notte queste cose sono colossali falsità che non stare in nessun documento se le inventate lei concludo pregando proprio perché il signore ecco intervenga ancora con più potenza e c'è tanti io raccomando anche a tanti che mi stanno ascoltando pubblicate cose appunto rette per smascherare quello che dice il dottor cionci fate video cercate ovviamente studiate seriamente il diritto canonico e fate video proprio per appunto contrastare ecco queste affermazioni di questo signore e di alcuni che lo sostengono perché appunto sempre più persone possano capire gli errori di questo signore e possano porsi ad essi e possano allontanarsi da essi preghiamo perché il signore ecco intervenga con potenza grazie a tutti